Presentiamo oggi Lirico Sinfonica 2014, con la consueta soddisfazione offriamo alla città un cartellone di primissimo piano. Con orgoglio abbiamo detto come la direzione artistica di Oren abbia collocato il nostro teatro all'avanguardia nazionale e internazionale, senza enfasi noi possiamo dire che la nostra programmazione è al ridosso di quella dei grandissimi teatri di tradizione, il teatro dell'opera, la Scala, il San Carlo. E dunque anche quest'anno abbiamo delle produzioni tutte nostre, quattro opere, una stagione di concerti molto interessante e credo che gli appassionati che ci hanno seguito con grande passione e con grande fedeltà in questi anni ancora una volta non faranno mancare la loro attenzione e il loro supporto alla strepitosa stagione. Ritorniamo con il nostro coro dove siamo già stati a Guangzhou, è un teatro molto molto importante in Cina, creato dalla più grande architetta del mondo che è la signora Hadid. Il nostro coro è la nostra città sulla bocca di tutti, su tutti i manifesti della città Guangzhou, ci ha portato grande grande orgoglio. Lo portiamo adesso per la Carmen che faremo a giugno, lo porteremo se Dio vuole anche per il balo e maschera che faccio dopo e ci sono tanti tanti progetti. A proposito stiamo creando un grande lien fra noi e la Cina, fra noi e Shanghai. L'orchestra di Shanghai verrà da noi a fare un concerto sotto la mia direzione con un violinista meraviglioso che ha vinto il Tchaikovsky concorso. Ed è un ragazzo israeliano molto molto giovane, molto particolare, grande musicista, grande violinista. Portiamo tanti solisti molto 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 importanti che sono a livello di Berlino, Vienna, Monaco, New York eccetera eccetera. Perciò diciamo che la stagione sinfonica sarà molto molto ricca. La seconda opera è Emanolesco, dove gli appassionati della musica e della lirica e di Puccini potranno vedere il Puccini giovane e contro il Puccini diciamo quasi ultimo, l'ultimo che addirittura non l'ha finita e ho l'intenzione anche là di fermarmi come ha fatto Toscanini nel momento della, dopo il mi bemol della morte di Liu, almeno farò il finale, dirigerò il finale ma mi fermerò, magari dirò qualche minuto perché dopo quella morte di Liu è impossibile continuare a suonare specialmente un altro finale, anche se il finale non è male diciamo, lo faremo quello di tradizione. Dopo abbiamo una vedova allegra molto particolare con una grandissima cantante e star attrice di oggi che è la Fiorenza Cedolins che torna da noi e poi finiamo con un grande titolo amatissimo, la Carmen, dove abbiamo secondo me la miglior Carmen di oggi italiana che è la Antonacci che è un artista che è irripetibile, un artista che è veramente difficile definire con parole, grande attrice, grande musicista, grande personaggio e la Carmen di oggi secondo me, l'abbiamo fatto insieme adesso al Covent Garden è l'unico appuntamento dell'Antonacci in Italia dopo la Scala, cioè fa la Scala e Salerno. Poi il quinto appuntamento è finalmente De Simone che arriva qui e penso che il pubblico è uno dei più grandi De Simone, devo dire, Roberto De Simone abbiamo fatto anche delle cose nel passato, Falstaff anche memorabile nella stagione d'oro del San Carlo nell'85 e lui verrà qui e delizierà il pubblico salernitano, sono sicuro. Perciò con tutta la grande crisi non abbiamo diminuiti né di titoli né di qualità e penso che offriamo al grande pubblico salernitano che io amo molto non solo al pubblico perché è diventato una tappa salerno per gli amanti dell'anirica internazionale voglio dire, vengono da tutto il mondo, dall'Inghilterra, dalla Suizzera, dalla Francia perciò sarà una tappa molto importante ed è una stagione ancora molto importante la sesta mia qui come direttore musicale e ringrazio anche il nostro grandissimo sindaco che ci dà questa possibilità e ci crede nella cultura ancora quello che purtroppo sono pochissime che ci credono, investono nella cultura c'è addirittura qualcuno o più di qualcuno che pensa che la musica è un rumore rumore inutile, questo ho sentito tante volte e grazie a Dio abbiamo un Vincenzo De Luca che pensa che è un patrimonio importante, magari uno dei più importanti che l'Italia ha al mondo e grazie a lui riesco a fare questa stagione meravigliosa.